Ma a che ora possiamo arrivare? Qui Alice? Ciao, bello. Poi mettermi perché era una zona in cui non credeva. Manca poco. Ragazzi, grazie. Mi raccomando, lavagli lì. Anche domani. Abbiamo sbagliato strada, stiamo andando alla betone. C'è scritto a betone. Ma dove sono andati i ragazzi? Ma dove sono andati? Ma dove è? Tu hai detto sì qui. Io ho detto, briga. Ma dove sono andati i ragazzi? Ma dove sono andati?